Mi trovo davanti al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto. Ho accompagnato ieri un amico che aveva delle problematiche cardiache, delle avvisaglie di un possibile infarto. Bene, 17 ore di attesa, qualcosa di vergognoso. Questo significa che la sanità pugliese, la sanità tarantina targata Michele Emiliano fa schifo, schifo, una merda di sanità e non certo per colpa dei medici, non certo per colpa del personale infermieristico o degli ausiliari e l'organizzazione regionale che fa schifo. Do atto anche degli sforzi della ASL, degli sforzi del direttore generale Colacicco, persona disponibile, ma il problema è il vertice. Se si ha un presidente di regione incapace in ambito sanitario, se si ha un assessore regionale alla sanità palese, che è un saltimbanco politico passato dal centro-destra al centro-sinistra e se ne fottono altamente delle problematiche sanitarie di Taranto, questi sono i risultati. Perché non è possibile che per tutta la nottata c'erano solo due medici al pronto soccorso, due medici, due, di cui uno che doveva dividersi con gli affetti da Covid. Ma è possibile lasciare la gente in questa condizione? Ma vi rendete conto? Ripeto, lo sottolineo per l'ennesima volta, il personale sanitario, medico, sanitario, hanno fatto miracoli, sono degli eroi, sono delle vittime, io non ce l'ho con loro, anzi, va fatto un plauso, ma è Emiliano, è la regione, è l'organizzazione che fanno schifo dal punto di vista organizzativo e stiamo parlando di Taranto che è una piazza in cui purtroppo c'è una drammatica, drammatica emergenza sanitaria. Non è possibile. La gente molte volte, sapete a che punto arriva, che si ha un problema, un problema fisico, anche importante, dice ma io posso starmi in 17, 18, 24 ore qui? E immaginate gli anziani, la gente che è poveretta, non può, non ha la possibilità neanche di avere un bicchiere, deve sbalchi, le accompagna per un bicchiere d'acqua, per un bicchiere di latte, quando hai fatto quasi una giornata qui. Ma stiamo scherzando e allora per cortesia Emiliano e compagni non venissero a raccontare puttanate sulla sanità, puttanate. Stanno pensando alle favole dell'ospedale, del nuovo ospedale San Catale e qui al pronto soccorso si butta il sangue, si butta il sangue e allora cari cittadini, civilmente e democraticamente ribelliamoci e invito anche i medici, il personale sanitario a ribellarsi contro questa organizzazione di merda, perché così va definita, organizzazione di merda, targata Michele Emiliano. Chiariamo eh, io non voglio certo difendere il centro d'est, anzi, chiariamo, perché anche la sanità targata fitto era la stessa schifezza di questa, giusto per capirci. E lo stesso è oggi quel signore che si chiama palese e fa l'assessore alla sanità, all'epoca di fitto stava con fitto, quindi alla fine come dire, si cambiano i pupazzi politicamente parlando, saltano da una parte all'altra ma sono sempre gli stessi. Bene, è tutto dal Santissima Annunziata, che dire, buona fortuna, perché c'è solo da augurare buona fortuna, è una lunga, lunga, lunga attesa per chi entra. Però, lo ripeto, un plauso al personale sanitario.